Devo fare alla svelta. I ragazzi hanno già recuperato Vegapunk, ma non posso ultimare la nave senza i progetti di quel genio, il suo laboratorio deve essere da queste parti, è qui vicino, eccolo, qui da qualche parte ci devono essere gli schemi e i progetti per lavorare la grammatolite, beh, dal momento che gli altri hanno già preso Vegapunk, penso che la marina stia cercando solo loro, dubito che verranno a cercare proprio nel suo laboratorio, è l'ultimo posto dove potrebbero trovarlo, aspetta, io quello l'ho già visto, Kuma, incredibile trovarti qua, anche se al momento sembri un fantoccio senza vita, ormai sei stato totalmente trasformato in una macchina e noi ti dobbiamo tutto, ma perché Vegapunk stava lavorando ancora su di te? Beh, non voglio passare per ingrato, ma purtroppo non ho tempo per pensare a queste cose, forse puoi davvero aiutarmi un'ultima volta, mettiamoci al lavoro. Perfetto, finito, con quest'arma in più dovrei riuscire ad andarmene tranquillamente da questo posto, a meno che non incontro quel bastardo, e ora che ho i progetti e gli schemi dell'algamatolite posso rendere la Sunny veramente la nave migliore del mondo, è il momento di andare, gli altri dovrebbero essere già sulla costa, via, fuori da qui, oh, ma chi abbiamo qui? Certo che avete veramente una bella faccia tosta, voi pirati cappello di paia, soprattutto tu, Cotti Flam, ora si spiega perché i tuoi compagni sono ancora fermi sulla costa, stanno aspettando te, siete davvero una seccatura, non sarei qui se non fossi obbligato dal mio dovere, capirei benissimo che non posso permettere di lasciarvi andare né te né i tuoi compagni, stai attento a come parli Kizaru, non siamo più gli sprovveduti che hai incontrato Sabaudi, il tuo potere non è più irraggiungibile per noi, oh, ma davvero? Certo vi siete distinti nelle ultime battaglie, forse tutti insieme potreste darmi anche delle difficoltà, ma tu solo, cosa pensi di fare? Dimmi, Cotti Flam, hai mai ricevuto un calcio alla velocità della luce? Sai che... Fermoli, non ho tempo da perdere con te, i miei compagni mi stanno aspettando. Oh, ma guarda, sei riuscito ad assimilare il potere che abbiamo messo dentro Kuma e Pacifista? Ma veramente sei così illuso? Quello è solo il 10% della mia forza. Come Pacifista tu puoi solo sparare raggi di luce, ti facci complimenti per aver raggiunto tale tecnologia, ma credi davvero di superare il portatore originale di questo frutto? Ora basta, mi siete già sfuggiti una volta a Sabaudi e il tuo capitano mi è sfuggito pure a Marineford. È una noia tremenda fare il rapporto quando non si ottiene il risultato massimo, quindi, caro il mio Cotti Flam, per te è giunto il momento di sparire. Ti faccio i complimenti per aver preso parte del mio potere, ma non hai ancora capito come funzionano le cose. Oh, caro il mio Kizaru, sei tu che non hai ancora capito nulla. Va bene, basta parlare. E' il momento di ucciderti. Grazie, Orso. Nonostante tu non avessi più una volontà, sei riuscito ad aiutarci ancora una volta. Eh, che peccato però. Mi sarebbe piaciuto essere ancora capace di votare.